Ha riaperto i battenti oggi la redazione di Riva del Garda del giornale Trentino. Una scelta fortemente voluta dalla nuova proprietà della testata che punta sul rilancio dell'editoria locale. Infatti, oltre a Riva del Garda, è stata riaperta anche la redazione di Rovereto. L'indirizzo è sempre lo stesso al quarto piano del condominio di Via Roma, sopra il Bar Italia. In un momento in cui l'editoria locale sta perdendo numeri, il giornale Trentino ha deciso di riaprire la redazione di Riva del Garda. Cosa ha spinto l'editore a fare questa scelta? È una scelta che parte innanzitutto dal territorio e non a caso ha deciso di riaprire non solo la redazione di Riva del Garda, ma anche quella di Merano e di Rovereto. Un segnale importante per riallacciare e per consolidare il rapporto con i nostri elettori e con il territorio. Dove si trova la redazione e quali iniziative verranno messe in campo? La redazione si trova nella storica sede di Via Roma 4, quindi porte aperte per chi vuole venire a trovarci. Ci sarà però un momento di festa per tutta la cittadinanza, un momento che è stato fissato per venerdì 28 aprile. Nei prossimi giorni sul giornale avremo modo di raccontare i dettagli di questo momento. Grazie a tutti.